E' una cosa che ho imparato nelle mie avventure da supereroe con Ant-Man e Wasp. Povero Meatens, sei rimasto bloccato. Ok, Micetto, vai su un ramo più in alto e ti tiriamo giù. Ah, Meatens, l'uscita è di qua. Cerchiamo di persuaderlo. Qui, Micio, Micio, Micio. Aspetta, se metto un disco blu riducente sull'albero, lo rimpicciolirà e Meatens potrà scendere direttamente a terra. No, Ant-Man, hai lanciato il disco rosso crescitore. Lo fa diventare più grande. Wow, è una coda da pazzi. Ci ha presi per te i giocattoli. Se ci colpisce con la zappa faremo la fine del dopo. Tu fuori dal sacco? Passate sotto la ragnatela, resterai imprigionato. Grazie, Spidey. Oh, forse no. Prendi, tuo Micio! Occhio, Spidey! Grazie per il salvataggio. È colpa mia! Devo rimediare io! No, ci pensai! Cabberi, l'ho beccato. Scusa, ti ho tagliato la strada. Colpa mia, ho agito di dritta. Rilassiamoci tutti e troveremo il modo di prenderlo. Posso usare un disco a crescitore. L'auto è passata indenne. Forza, Mittenseltun è stradale. Ora prendiamoci un minuto per riflettere mentre il Micio è distratto. Ci penso io! Dobbiamo andarci piano e pensare prima di agire. La situazione è un po' frustrante. Lo so, Spidey. Mittens è un grosso problema, ma lo risolveremo. Scusa, Wasp. Non ho riflettuto. In fondo, Mittens sarà anche grande, ma resta pur sempre un gattino. Trovato! Se lo distraiamo col gioco, puoi farlo tornare normale con un disco. Ho un'idea. Wasp, puoi ridurre l'energia del tuo pungiglione per usarlo come puntatore laser. Certamente, Spidey! Sono pronto quando vuoi! Sì, paziente. Aspetta. Aspetta. Ora! Centra! Ci ha lasciato lo zampino. Eh? Eh? Capita? Catturare un gatto gigante ti insegna che se mantieni il sangue freddo e fai con calma, riuscirei a svolgere il compito. Proprio così. Grazie, Spider-Man! Preso! Passo e chiudo!